Ciao e bentornati sul nostro canale. Leggiamo il messaggio di nostra signora regina della pace a Pedro Regis. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Messaggio 5495 del 19 settembre 2023 Cari figli, la vostra vera liberazione e salvezza è il mio figlio Gesù. Amate e difendete la verità. Sarete perseguitati perché difendete Gesù e la sua vera Chiesa. I nemici si uniranno e porteranno sofferenza e dolore ai miei poveri figli. Non tiratevi indietro. Il mio Gesù è con voi, anche se non lo vedete. Confidate in Lui, che vede ciò che è nascosto e vi conosce per nome. Siate miti e umili di cuore e sarete vittoriosi. È in questa vita, e non in un'altra, che dovete testimoniare la vostra fede. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e siate fedeli al vero Magistero della sua Chiesa. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video. Grazie a tutti.